Pentre Domus sono state riaperte al pubblico nel complesso archeologico di Pompei, si tratta delle case di Marco Lucrezio Frontone, il cui impianto originario risale al II secolo a.C. e in età augustea abitate da una delle più importanti famiglie della città, di quella di Romolo e Remo appartenente alla Genz Fabia e la Domus di Trittolemo, sontuosa casa a due ampivani, confinante con il santuario di Apollo. A celebrare la riapertura il ministro dei beni culturali Dario Franceschini che ha parlato delle strategie sul mantenimento della struttura e del ritorno di Fabrizio Magani alla direzione dei beni culturali all'Aquila dopo pochi mesi trascorsi in Campania. E' il segno che un passo alla volta si sta andando avanti verso l'obiettivo. Sappiamo che è una situazione difficile, che ci sono tanti anni di ritardi, ma abbiamo preso un impegno non soltanto con l'Unione Europea per i fondi che ha destinato a Pompei, ma più in generale con tutto il nostro paese, con tutto il mondo che guarda a Pompei come una cosa che appartiene a tutti, non soltanto al paese che la ospita, come giusto che sia, patrimonio dell'umanità, come vengono definiti i siti UNESCO. E quindi sentiamo questa responsabilità, è un percorso che sarà non semplice, ma ce la stiamo mettendo tutta. Il segnale di oggi è un segnale positivo e quello che io chiedo a voi, che giustamente accendete questi riflettori quando c'è qualche cosa che non va, teneteli accesi e fate sapere anche quando ci sono cose che funzionano. Ho detto che resteranno aperte, forse non mi sono spiegato, ma naturalmente lo faremo attraverso, come abbiamo fatto anche adesso, è importante lavorare andando d'accordo, soprattutto con i lavoratori. Ho detto che in Italia ci sono due grandi emergenze, una è Pompei e una è l'Aquila, non si possono gestire a scavalco e quindi come mi hanno chiesto tutti quelli che all'Aquila hanno lavorato con il dottor Magani di lasciarlo là, ma Magani si trasferirà all'Aquila contestualmente alla nomina del suo successore, quindi non ci sarà nemmeno un giorno di vuoto. Durante la passeggiata un giovane Alfonso Cristofaro del comitato Pompei Mia ha invitato il ministro a un'iniziativa che si terrà il prossimo 4 maggio. Ho chiesto al ministro se gentilmente poteva venire con noi ad abbracciare il sito, perché penso sia importante che anche il ministro dei beni culturali faccia un atto d'amore per gli scavi di Pompei. È importante che qui sarebbe ancora più bello, purtroppo ha degli impegni, noi lo capiamo, però sarebbe stato bello se fosse venuto anche a dare un'altra dimostrazione, questa volta di completo amore per gli scavi.